Credo che dal punto di vista della preparazione e dell'adozione degli Open Badge non dovremmo avere grandi problemi, nel senso che soprattutto nei corsi graduate, quindi Master of Science, abbiamo delle valutazioni, delle prestazioni degli studenti che vanno al di là della proficiency nella memorizzazione della teoria e quindi cerchiamo di misurare le soft skills, il know-how, che sono tutti concetti molto correlati con l'applicazione degli Open Badge. Quindi gli oggetti di misurazione dovremmo averceli. Quello che io vedo un pochino più lontano è la massa critica che mi piacerebbe questo sistema raggiungesse. A me piacciono molto gli Open Badge, un curriculum basato sugli Open Badge è un curriculum che ha bisogno di numeri. Non sappiamo ancora ben quanti, comunque abbracceremmo volentieri la sperimentazione, dobbiamo semplicemente documentarci un po' di più su qual è la roadmap per arrivare ad una massa critica di issuer che possano dare valore all'iniziativa. Quello che mi ha ispirato alla presentazione di oggi è un avvicinamento del curriculum di uno studente al gioco, alle tecniche di gamification. Non so se mi piace o no questa cosa, nel senso che va condotta con tanta attenzione da parte di chi ti dà un badge, nel senso che se il badge diventa troppo fine-grained, troppo legato a un obiettivo di breve, troppo in qualche modo giocoso, probabilmente questo sistema potrebbe avere qualche difficoltà di fiducia generata nei confronti di chi poi legge il curriculum pieno di badge. Per cui credo che molto banalmente vadano provate un po' di cose per trovare un equilibrio come per qualunque roba, dall'e-learning all'assessment continuo, alle lezioni flipped. Quindi immagino semplicemente che si tratti di tempo per la sperimentazione, ma vedo questa cosa tutto sommato ben avviata verso una stabilizzazione, un'adozione generalizzata.